Luca, com'è andata oggi? Ah, oggi bene, sono stato qui al mercatino ad aiutare nel cortile interno, abbiamo messo a posto questi oggetti per la cucina, ho messo a posto di là che ci sono i quadri, le bici. Interessante. Te cosa hai fatto stamattina? Ieri abbiamo messo al reparto vestite, quest'anno c'è un sacco di bella roba, grandissime marche, guarda, il pubblico, ciao pubblico, tutti voi che ci state guardando, oggi alle 3, apertura del mercatino, oggi ci sarà un gran giorno, grandi acquisti, prezzi buonissimi. Sono fuori dal tunnel, del divertimento, sono fuori dal tunnel, del divertimento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto più contento. Di te che spandi, stipendi, ti fatti in posti, tu prendi, tra culi, su cubi, su come di pittà, vendi, su chi vendi, e ti senti, vendi, non mi comprendi. Se ti trovo non ti offendi, se ti dico che sei freddo, riprendi, per esempio, non mi servio per un tempio del divertimento. Essendo amico di Badamembo, fanno un silenzio, che puoi diventare musica. E se rimusche, non si faccia il tempo che frequenza, con l'audo, l'autoradio, nell'autocauto resto. Ci affaccia, con l'autocaccia, anche l'autocaccio, cavo passo, con l'ultima, lo dai, ricostruisco. Giagini, in una giornata immagini da disco, e mi stupisco. Quando si uniscono al banchetto, si impastiscono. Mi schiano il banchetto e non capisco. E se si finisce, quando hai di ciclo, vai nell'estare di San Francisco. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto più contento. Mi piace il cinema, è pareggio, per questo mi chiamano vecchio. E la droga l'insunzanza, c'è la cassa, c'è lo specchio. Non la so più! Oh, gli odio, caparezza. Io ho un tipo di seconda mano, che mi fa? Sono qua! E' il mio costume, la piume. E' la del barbone. E' la del barbone. E' la nuova posizione. Ma ti salito cena, mi delizio ti salito cena. Ho fame, non problema, se mi sfida la vita a scena. Serati a tema, appena c'è tre salami, a trete spesse. VHSS, non basta anche sulle casse. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto più contento. La 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 la. La 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 Incontri gli scolpi, salgono opinioni, persone che sono fatte, i nomi e cognomi Prendilo signori, che questo è il vino buono E quello che non è buono Che vive di ricordi signori e di giochi, di abbracci sinceri, di pace e di fuochi Di tutti i momenti tristi e divertenti e non di momenti tristemente divertenti Io la vorrei rifare Grazie a tutti! Grazie a tutti!